la ripresa gamboni mette il piede sul servizio di ansemi recupera la sfera poi definitivamente parisi dal tiro in porta la parata ottima risposta quella di galassi poi la palla è spazzata in avanti nella zona e presiedute da d'ambrosio recupera la sfera faccio che va su rustic rischia e de paula riesce a recuperare il pallone il tiro in porta l'ottima risposta nuovamente di galassi e palla che si spinge in rimessa laterale che è già stata abbattuta bene nuovo passaggio in direzione faccina e di rigore a cercare parisi prova a girarsi parisi l'ottima risposta da parte di galassi che salva la porta del cottini de vecchis recupera la sfera però faccini il servizio di per parisi ancora su faccini ha fatto un miracolo galassi salvando la porta calcio d'angolo battuto velocemente palla però che era in movimento secondo palo torroni fa la sponda la palla arriva nei piedi di parisi e prova la conclusione poi ancora torroni e poi la parata nuovamente di galassi un altro miracolo dell'estremo difensore del cottini